Quindi do la parola per questa prima comunicazione all'assessore Capuzzi, prego. Io mi scuso già perché appunto non sto benissimo e quindi ogni tanto sentirete dei colpi di tosse. Ma più che sviluppi, perché gli sviluppi competono a questo punto della vicenda alla magistratura più che all'amministrazione comunale, mi sembrava che l'interesse fosse anche quello di cercare di chiarire alcune questioni rispetto anche a quanto è uscito sulla stampa, quindi rimettere in fila un po' tutti gli aspetti complessivi della vicenda. Io per farlo, siccome non voglio, questa è una questione abbastanza delicata e quindi voglio utilizzare le informazioni nel modo migliore, nel modo più giusto e quindi leggerò alcune note che sono anche prese dai comunicati ufficiali in modo tale da evitare di aggiungere o di dire delle cose che poi non corrispondono al vero. Parto dalla ricostruzione della vicenda fatta dalla USL Nord-Ovest perché ovviamente c'è stata tutta la questione dell'aspetto relativo al ricovero tra il 29 e il 30 agosto della mamma di Samantha perché poi da lì si sviluppa tutta una serie di questioni e di valutazioni. Quindi parlo a ritroso per arrivare poi agli ultimi tempi. La ricostruzione della ASL dice questo. Nella notte tra il 29 e il 30 agosto 2015 il servizio 118 è intervenuto in località Calambrone dove ha soccorso una signora riversa a terra per strada in stato soporoso. Sul posto erano già presenti i rappresentanti delle forze dell'ordine. La signora è arrivata al pronto soccorso di Livorno alle ore 5 con un trauma cranico e in un evidente stato di intossicazione alcolica. È stata sottoposta a tutti gli accertamenti diagnostici e sanitari del caso tra i quali tre TAC, tre RX e altri esami clinici. Le ferite riportate e considerate dai medici come compatibili con un quadro di violenza domestica hanno portato il personale del pronto soccorso alla richiesta di consulenza da parte del referente aziendale del Codice Rosa. Il referente del Codice Rosa, come previsto dalle procedure, ha effettuato il colloquio cercando di chiarire con l'interessata l'esatta dinamica di quanto accaduto. La signora ha ripetutamente negato di essere stata oggetto di violenza ed ha giustificato le ferite come conseguenti a una caduta accidentale dovuta al proprio stato di alterazione alcolica. Non ha espresso il consenso all'attivazione delle procedure del Codice Rosa o al ricovero in residenza protetta. Il colloquio si è concluso con la fornitura di recapiti telefonici consultoriali e di associazioni impegnate nel sostegno alle donne nel caso volesse successivamente rivedere le proprie decisioni. Dal momento delle dimissioni la signora si è rese reperibile non avendo lasciato recapiti domiciliari ma solo il numero di un telefono cellulare è risultato peraltro alle successive chiamate mai raggiungibile. Il referente ha segnalato quanto accaduto alle forze dell'ordine peraltro già a conoscenza della situazione essendo presente al momento dell'intervento 118 ma non nei servizi sociali di alcun comune non avendo a disposizione recapiti utili di alcun tipo. Questo è la signora nei mesi successivi si è ripresentata in pronto soccorso altre quattro volte con problematiche minori legate anche alla gravidanza in corso e nessuno di questi casi ha riferito di aver subito violenze. Questa è la prima ricostruzione appunto fatta dalla USL Nord-Ovest perché questo aiuta a far capire anche alcune delle dinamiche e nel primo momento per cui non si è ritenuto attivare il codice rosa né tantomeno informare i servizi sociali in questo caso i servizi sociali del comune di Pisa. Faccio una premessa importante che sta nel fatto che né la mamma di Samantha né Samantha erano residenti nel comune di Pisa e l'altro aspetto è che non si erano mai rivolte ai servizi sociali non solo per la questione specifica appunto dei maltrattamenti della violenza ma nemmeno per lo stato in cui ovviamente si trovavano il fatto di vivere all'interno di una struttura. Aggiungo rispetto alle informazioni quanto diciamo raccontato anche nella nota ufficiale della Polizia Municipale perché anche qui sono emerse informazioni che sostenevano che la Polizia Municipale avesse diciamo intercettato madre e bimba. Allora, la nota della Polizia Municipale fa riferimento a questo. Allora, in data 21 settembre 2009 una segnalazione telefonica pervenuta alla centrale operativa di Pisa comunicava che in viale del Tirreno, località Calambrone all'interno di un immobile che fino a poco tempo prima ospitava un pubblico esercizio si è resediata una famiglia probabilmente di etnia Rom unitamente ad una pattuglia della locale stazione dei Carabinieri la Polizia Municipale del Litorale si portava in zona per verificare quanto denunciato sul posto venivano identificate sette persone quindi 21 settembre 2009 lo ribadisco per una questione anche di ricostruzione della situazione numero sette persone tutte appartenenti alla famiglia Cristic il cui capofamiglia risultava essere tale Cristic Ziovigin identificato mediante una carta di identità rilasciata dal comune di Pontedera questi riferiva che faceva parte del nucleo familiare anche Cristic Tonino al momento detenuto presso le sughere di Livorno quindi nel 2009 il Tonino Cristic che è appunto quello oggi detenuto all'interno del carcere e ad oggi accusato dell'omicidio di Samantha era in carcere oltre un anno dopo in data 31 gennaio 2011 la Società della Salute di Pisa comunicava ai carabinieri di San Piero al Grado e di Tirregna la Polizia Municipale la presenza del nucleo sopracitato presso l'immobile indicato di proprietà del comune nel periodo tra ottobre 2012 e giugno 2013 un componente della famiglia Cristic veniva affidato dal Tribunale dei Minori di Firenze al servizi sociali presso la pubblica assistenza di Marina di Pisa in realtà i servizi sociali a cui si fa riferimento e questo io l'avrei specificato oggi nella questione imposta dalla consigliera Ghezzani sono i servizi sociali del Tribunale dei Minori e quindi non i servizi sociali del comune di Pisa alla pubblica assistenza di Marina il distaccamento del litorale acquisiva detta informazione giusto perché la sede della pubblica assistenza è attigua alla Polizia Municipale in data 24.11.2015 la responsabile della direzione i servizi educativi del comune di Pisa richiedeva a questo distaccamento di verificare il motivo dell'assenza dalla scuola primaria Viviani di Marina di Pisa dell'alunno Cristic Dean che allora ecco allora che il personale in forza di distaccamento si recava presso il domicilio dichiarato dai genitori del minore alla segreteria della scuola cioè il viale del Tirreno numero 395 località Calambrone dove trovava la madre del bambino questa riferiva che per problemi familiari il figlio si era assentato per un breve periodo dalla scuola ma che sarebbe tornato a frequentare quanto prima si precisa che contrariamente a quanto riportato e spiegabilmente dalla stampa locale per tutto il tempo in cui la Polizia Municipale si è trattenuta all'interno della baracca non erano presenti né la bambina ora deceduta né la madre di quest'ultima mentre c'era il minore assente dalla scuola dopo i tragici fatti di questi giorni si è poi saputo che le due donne sarebbero state nel nord Italia dal settembre 2015 fino al febbraio 2016 quando avendo trovato riparo presso altra abitazione di una persona amica allora in tutta questa vicenda ovviamente insomma molto spesso sono stati coinvolti nell'ipotesi appunto di responsabilità anche i servizi sociali di Pisa e quindi la società della salute in realtà anche in riferimento alle date che vi ho dato quindi 2009 e 2011 nel 2011 sono stati proprio i servizi sociali di Pisa a fare comunicazione al Tribunale dei minori appunto della presenza in riferimento alle sette persone del nucleo dei Cristic di minori quindi riferimento appunto alla presenza dei minori e da quel momento in poi come appunto dichiarato anche dal Tribunale dei minori per noi quegli immobili risultavano vuoti quindi non più abitati ora anche rispetto appunto al fatto se poi i servizi sociali debbano andare o no a diciamo fare un compito di presidio del territorio e quindi verificare in ogni possibile abitazione se ci siano condizioni di disagio è evidente che il compito degli assistenti sociali non è questo voglio precisare che al momento in cui la mamma è stata ricoverata e quindi i servizi sociali di Pisa sono stati coinvolti noi no purtroppo mi serve cortisone ma grazie i servizi sociali hanno seguito la mamma l'hanno seguita per tutto il tempo dell'adegenza all'interno dell'ospedale abbiamo attivato tutti ovviamente i percorsi possibili il magistrato peraltro poi ha disposto la possibilità per la mamma di potersi allontanare da Pisa e quindi di andare di ricongiungersi con l'ex marito e il figlio 14enne della donna a Rapallo dove si trova attualmente quindi ha rifiutato ogni tipo di sostegno di intervento di vario tipo perché ovviamente abbiamo fatto anche una valutazione che ha tenuto del conto che questa era comunque una donna che si era allontanata dal marito e era comunque venuta a Pisa quindi abbiamo provato anche a valutare l'ipotesi che si aveva ritenuto opportuno allontanarsi dalla famiglia di origine probabilmente con la famiglia di origine non stava non stava bene lei ha rifiutato ogni intervento abbiamo proposto il ricovero diciamo in una struttura protetta abbiamo proposto alternative possibili ha ritenuto opportuno nel momento in cui il magistrato gli ha dato nulla osta riandare appunto a Rapallo quindi abbiamo offerto tra l'altro come amministrazione comunale anche il supporto economico per la celebrazione del del funerale di Samantha la famiglia aveva già provveduto in maniera in maniera diversa quindi nel momento in cui siamo stati attivamente coinvolti abbiamo fatto tutto quello che era il nostro dovere aggiungo la parte che riguardava la questione dell'immobile perché anche qui spesso si è fatto il ragionamento e anche qui leggo una nota precisa perché l'edificio in cui viveva il nucleo familiare che fino al 2002 è ospitato una pizzeria è vero che è di proprietà dell'amministrazione comunale ma ad oggi l'amministrazione comunale non può materialmente entrarne in possesso dato che da sei anni l'immobile è al centro di una controversia con l'ultimo gestore controversia che tra l'altro attende ancora di essere decisa e che ha reso anche impossibile ogni qualsiasi tipo di intervento volto ad evitare nuove occupazioni quindi questa è diciamo la ricostruzione per quello che ci riguarda e per quello ovviamente che ci ha riguardato fino ad ora oggi il compito ovviamente è quello della magistratura di andare avanti e di accertare le eventuali responsabilità ad oggi si trova ancora in carcere Tonino Cristic che è accusato al momento di aver ucciso la piccola la piccola Samantha leggevo stamani sul giornale che ha fatto istanza di scarcerazione ovviamente insomma tutto quello che accadrà da ora in poi prenderà un corso diciamo diverso che certamente non non ci coinvolge diciamo direttamente ma certamente non ci rende meno responsabili io voglio chiudere con una nota noi in questi giorni abbiamo insomma nella vicenda in sé ovviamente questo al di là diciamo delle responsabilità o dell'individuazione delle responsabilità è evidente che noi abbiamo fatto una riflessione perché ho detto prima i servizi sociali ovviamente non possono andare ovunque di propria diciamo iniziativa a verificare se ci sono delle condizioni di disagio perché spesso questo significa anche essere messi a rischio nell'esercizio stesso della loro professione perché si occupano di altro questo non vuol dire però che non si debba riflettere anche su alcuni potenziamenti di alcuni servizi che noi oggi abbiamo a disposizione è una riflessione che abbiamo fatto e quindi valuteremo anche da questo punto di vista se attivare servizi anche più innovativi sicuramente il dato vero è che dovremo rivedere tutte le procedure in atto oggi perché una serie di aspetti prettamente comunicativi non hanno funzionato nonostante le procedure in atto è evidente che anche qui dobbiamo valutare quali strumenti nuovi ci possano permettere di essere più efficaci a partire da una valutazione che io ho fatto anche con l'assessore regionale che è quello di valutare l'ipotesi anche di un numero unico di riferimento quindi una sorta di porta di accesso unica all'interno del quale poi poter accedere e far smistare gli interventi in particolar modo quando siamo di fronte a dei maltrattamenti nei confronti dei minori perché qui quello che è mancato è fondamentalmente l'attenzione nei confronti del minore perché ripeto gli adulti possono sia rifiutare gli interventi sociali e questo lo dico perché spesso mi vengono segnalate anche situazioni che sono purtroppo anche ampiamente conosciute ma l'assistenza sociale non è obbligatoria per cui se qualcuno che non ritiene opportuno come ha fatto la mamma di Samantha noi gli abbiamo offerto una serie di opportunità e lei li ha rifiutate rientra nella sua prerogativa diverso invece il rapporto con un minore che non essendo in grado di scegliere per controproprio bisogna che da questo punto di vista le istituzioni debbano poter intervenire e quindi dobbiamo mettere in atto delle procedure che siano assoluta tutela dei minori è evidente che gli strumenti che abbiamo oggi a disposizione non sono sufficienti soprattutto quando ci troviamo di fronte a delle incapacità anche genitoriali e quindi di genitori che magari non si rendono nemmeno in maniera anche inconsapevole conto che effettivamente stanno sponendo anche i propri figli a delle situazioni di violenza anche molto molto grave quindi essendo loro stessi già necessari di bisogni particolari noi però dobbiamo cercare di titolare anche chi non è in grado di tutelarsi da sole grazie a tutti Grazie a tutti.